Io accolgo e ringrazio già ancora un'altra volta il dono di questo defibrillatore e ringrazio il gruppo dell'Ions Club Lomellina Riva del Po. Con il cuore in questa attrazzatura c'è bisogno, se non c'è necessità, che venga utilizzato. Speriamo che non serva, però al momento del bisogno c'è. Tra l'altro, ricordioso, fonte di ogni benedizione, tu hai affidato la sorte di ogni ammalato alle cure premurose del tuo popolo. Funciona. Funciona. Grazie.